Dal 18 gennaio 2020, grazie ad un progetto del liceo Leopardi-Maiorana, anche la città di Pordenone è diventata parte dell'ampio museo diffuso delle pietre d'Inciampo, distribuito in tutta Europa con oltre 80.000 pietre in ricordo di chi è scomparso vittima della violenza nazifascista. Meditate che questo è stato. Ce l'ho detto Primo Levi tanti anni fa, dobbiamo sempre ricordarcelo. Dobbiamo sapere e non dimenticare per evitare che accada di nuovo. Questo è il messaggio delle pietre d'Inciampo, tanto più in questo caso dove una persona è stata rapita dalla sua famiglia, dai suoi affetti, dalla sua vita, perché doveva andare a lavorare per il Terzo Rai. Sono nove in totale le pietre sino ad oggi collocate in città, oltre a quelle nei comuni limitrofi, e quest'anno altre cinque pietre si aggiungono a questo itinerario della memoria cittadina. Arturo Biasutti, Annibale Toffolo, Antonio e Romeo Pilat, Luigi e Antonio Santarossa. L'anno scorso abbiamo posato la pietra di Giovanna Baccarac a Coltura di Polcenigo, e invece quest'anno siamo un po' le tutor per i ragazzi che adesso stanno posando le pietre. Quest'anno abbiamo continuato con il progetto perché l'anno scorso ci siamo sentite molto coinvolte, soprattutto perché la donna di cui abbiamo parlato era una personalità molto forte, e quindi abbiamo deciso di continuare anche quest'anno proprio per andare a chiudere, visto che quest'anno siamo in quinta e abbiamo la maturità a questo progetto, e chiudere il nostro percorso in questo modo. Ci sono tanti modi per onorare la memoria di quell'evento tragico che fu la Shoah, ci si può limitare alla cerimonia istituzionale, noi abbiamo voluto fare qualcosa di più, abbiamo voluto approntare un programma di musica, teatro, per rendere viva la memoria, e anche questa iniziativa delle pietre d'inciampo, museo cielo aperto, che ricorda quelle vittime. Io sono convinto che l'Occidente sia vaccinato dal ritorno di quelle terribili ideologie, anche grazie a queste iniziative che rendono viva la memoria.